In tutti i social network, Joe Breaker cerca Filemon con l'unico scopo di farla diventare la bella Ciao. Puoi spiegare senza la gente che sei la bella Ciao, così tenere frutture in modo modo tutto in mano che passa attraverso la voca di Filemon. Tutto sei grava a te vedere al suo stesso, è vero. Prendiamo il pollo ricco e ricco e facciamo il bell'acciaio. Perdonali mano! Ah, televisione stupido! E' evidente, hai segreti di salata Donani? Quanto dispositivo? No, quanta vittoria! Lo confonde ora tutta la polizia sec... Se... Che...